51. Carabiniere Ero un carabiniere e vivevo in caserma. Quando smontavo, per essere sicuro che la pistola fosse vuota, la scaricavo in un sacco di sabbia nel cortile della caserma. Quel giorno mi ricordai di farlo quando stavo già in macchina. Apri lo sportello e scaricai la pistola per terra. Un proiettile colpì un sasso, rimbalzò e mi prese in mezzo agli occhi. Commento Per quella creatura è raggiunto il momento di abbandonare il piano fisico, perché nell'eterno presente, dove tutto è già scritto, il caso non esiste. Grazie a tutti.